anche tu fai le pompe, no? ah, è un lavoro che rende così tanto farle pompe? eh, sì ah, pensa a te vabbè, paese che vai, usante che trovi insomma, siamo a Bologna vabbè, ascolta, ma la donna ideale come lo vorresti? tipo il numero? tipo il numero 43 tipo la 43 di una bella donna, affascinante ricca, i soldi vanno i soldi ah, sei ricca anche tu? cioè, questo è il tavolo dell'alta borghesia fatemi capire l'acqua va dove sempre si è la vendita ah, ho capito cioè, più sei ricca, più diventi ricco, insomma vabbè, che te devo dire? sei emozionato? fammi sentire il cuore ragazzi, è molto emozionato poi il cuore che va anche un po' strano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti